Anche tu non sai bene come fare il servizio? Per prima cosa mettiti con i piedi affiancati che guardano verso fuori, non con le punte rivolte verso la rete. Poi per prima cosa lancia la palla e dopo muovi la racchetta. Poi colpisci la palla sopra la testa facendo un movimento lento, con calma, altrimenti rischi di scomporti e accelerare tanto la schiacciata verso il basso e quindi rischi di sbagliarla. Anche per te il servizio è il colpo più debole? Scrivilo qui sotto nei commenti.